Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale Infocus & Tutorials. In questo breve video vi mostrerò come potete collegare la vostra Amazon Fertigo Stick, dispositivi USB esterni, ad esempio chiavette USB, hard disk USB o anche adattatori USB, cavo Ethernet. Tutto quello di cui avrete bisogno sarà un hub USB OTG compatibile con la vostra chiavetta. Invecerò brevemente, come potrete importare, fare applicazioni tramite questo collegamento con una chiavetta USB. Andiamo a collegare. Un consiglio, quando collegherete la USB OTG alla vostra chiavetta, non alimentatelo con la presa USB della TV, ma alimentatelo tramite un alimentatore esterno, perché generalmente le televisioni non hanno tutta quella potenza per sopportare anche, per esempio, un hard disk USB, che assorbe veramente tanto corrente. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e mettete un bel like. E se avete idee o consiglio sui prossimi video, scrivete pure nei commenti che se fossi vi accontentete voli in più. Ora passiamo al tutorial. Per poter collegare il vostro hub alla chiavetta, si fa in modo molto semplice. Si attacca nell'unica presa disponibile, cioè quella di alimentazione, l'hub. L'alimentazione che andrò ad attaccare alla FireTuber Stick, l'attaccherete alla presa di alimentazione dell'hub. E tutti i dispositivi USB potete attaccarli nelle varie prese. Io adesso vorrò mettere una chiavetta USB in file di installazione di codi, e poi lo andrò ad aprire tramite il file manager della FireTuber Stick. Lo vado a scaricare. Nel prossimo video vi farò vedere anche come potrete importare il file senza lo tdvd, nessun tipo di dispositivo USB. Solamente tramite un piccolo programmino che vi spiegherò nel prossimo video. Quindi mi raccomando, seguite il canale. Ho messo a fare l'installazione di codi dentro la chiavetta USB, e adesso lo andrò a collegare al lab. Allora, entriamo nelle applicazioni File Explorer, e vediamo se la nostra modalità tv vede USB. Va bene. Quindi noi semplicemente, il programma di installazione di codi che abbiamo caricato con internet tramite PC, possiamo importarlo anche tramite USB. E così anche, diciamo, filmati o foto. Adesso provo a importare qualche filmato di quelli che ho fatto sul canale. Vediamo se funziona. I file sono presenti nella chiavetta. Adesso andiamo a vedere se, ad esempio con codi, possiamo visualizzarli. per fare le foto. Utilito codi perché è molto semplice e comodo per visualizzare file e foto. Andiamo, per esempio, in video, vediamo che è presente la chiavetta. E vediamo. I file che abbiamo ancora inserito sulla chiavetta USB. Bello, eh? Adesso vi faccio vedere anche se è possibile vedere le due foto che ho inserito. Mi spengo. Mi spengo. E andiamo a vedere. Invece che video, ciccio. Entriamo nella chiavetta. E ci sono anche le foto. Semplice, no? Vi ho appena mostrato uno dei metodi con cui potrete importare file o applicazioni nella vostra parte del stick. Ci sono altri metodi che vi spiegherò nei prossimi video. Mi raccomando, state collegati e seguite il canale per ottenere la giornata. Ciao a tutti. Arrivederci nel prossimo video.